Spesso affascinante. Per la psicologia, con il linguaggio non verbale, si indica il modo silenzioso e spesso affascinante che ha il nostro corpo di comunicare con gli altri attraverso i suoi movimenti. Commento. Il linguaggio non verbale è anche quello che chiama, che colloquia con l'altro, non con il corpo fisico, ma con i corpi superiori. La preghiera evocata, non detta, è un esempio perfetto del linguaggio non verbale.